I'm on a mission! Nelvet in area nel tiro, rete, rete, un gol straordinario di Nelvet! Quello che voleva ieri, la palla all'aria, si devono allargare con A, il peso in centrocampo del Bologna molto chiuso, si è allargata molto bene, ha puntato uno contro uno con questa notte, è entrato dentro, lo hanno fatto sicuramente anche passare in due giocatori del Bologna, c'era possibilità anche di un rigore, non è entrato e poi Nelvet dentro era di rigore, ha calciato benissimo, molto vicino Antonioli, gol imparabile, grandissima giro di Nelvet. GOOOOOO GOOOOOO 禍 acağ yeni è stato fatto Buone mani! La crosta! Buone, buone, buone! Con i contagi rifermente! E' un bel gol! Buone! E' un bel gol! Una rete stupenda! Buone! 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 Eeeh! Stump it! Quattro uno! Dick to the baseline, kick to the floor! Pop that body I like it for! Rock to the kick it, rock to the ground up! Pop that body one more time! Rock for the baseline, two for the floor! Three for the big name, once more! One, two, one, two, three! Kick it! All the mission! All the mission! All the mission! All the mission! We kick it, jump it, rump it! Rock it! One more time! We kick it, jump it, rump it! Rock it! One more time! We kick it, jump it, rump it! Rock it! One more time! The M.C. We gonna blow your mind! Musica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti